Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati sull'Inforion, verso un abbraccio a tutti quanti e benvenuti alla prima puntata di una serie di astrocafè speciali che dedicheremo alla Luna e alle missioni Apollo, visto che questo mese e tutto quest'anno in realtà, forse per me anche tutto questo decennio dovrebbe essere tutto dedicato al ricordo di quanto incredibile fu lo sforzo per andare sulla superficie della Luna con degli umani e anche riportarli vivi a casa, cosa non da poco, quindi mi sono già perso, però guardate quanto è bello questo razzo ogni volta che lo vedo mi scordo anche di come va e sono qui, quindi se a un certo punto durante il video vi ignoro e mi metto a giocare con Lego guardatemi, non lo so, tanto su YouTube hanno molto questi video comunque, tornando a noi, il motivo per cui cerco di fare una serie elaborata su vari argomenti invece di uno solo è perché già divago troppo per conto mio e poi perché c'è molto da dire e tutte le volte quando elabori tanto su piccole cose ti perdi il quadro più grande, per cui questa prima puntata la voglio dedicare in generale riguardo a cosa fu il programma Apollo come siamo arrivati all'Apollo 11 e un po' di basi riguardo a piccole cose, quanto erano grandi le navicelle quanto erano potenti i razzi e tutte queste piccole cose che ci danno un'idea così di sfondo riguardo a poi dopo gli altri particolari che affronteremo. Quindi bando alle ciance e andiamo a vedere di particolare come è nata la missione Apollo 11 e di cosa faceva parte, qual è il programma più grande. Ci vediamo tra poco Ora vi faccio vedere una cosa meravigliosa. Vedete quanto è grande è questo razzo? Beh, in scala questo è un essere umano non so se riuscite a vederlo da lì ma questo qui piccolino è un ingegnere, lo si vede dal fatto che ha perso i capelli nel tempo e tutto questo è il Saturn V in scala. Quanto deve essere incredibile essere accanto a qualcosa del genere tutte le volte che vedo questa cosa ma anche le immagini degli ingegneri che lavorano giuro che la peridocca è davvero uno dei monumenti per la tecnologia umana più incredibile che abbiamo mai fatto è meraviglioso. E come arriviamo a tutto questo quando solo 12 anni prima di questo lanciamo solo il primo satellite nello spazio che fa bip bip? Beh, questa è la storia che affrontiamo oggi ma partiamo dagli inizi perché per arrivare a questo la prima cosa che serve sono i razzi, sono missili e dopo la seconda guerra mondiale le due superpotenze che dominano ora il panorama mondiale i Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra iniziano a sfidarsi su nuove tecnologie militari e una in particolare, una tecnologia, inizia a spiccare oltre ai aerei, le bombe atomiche ovviamente, iniziano a farsi sempre più vedere i missili perché se hai un missile in grado di portare un'attestata nucleare dall'altra parte del mondo senza che tu possa, senza che tu debba andare fino a lì e senza necessità di aerei hai un vantaggio notevole. Infatti entrambi i paesi iniziano a sfidarsi su chi sarebbe riuscito a lanciare il primo missile intercontinentale, così sei in grado di lanciare dall'altra parte del paese o del mondo un missile con tanto di bomba nucleare e una cartolina di auguri i primi a riuscirci sono l'Unione Sovietica nel 1957 con un programma chiamato R7 quel razzo è abbastanza potente che invece di puntare verso l'orizzonte lo punti verso l'altro arriva nello spazio e ed è esattamente quello che fanno, lanciando nel 4 ottobre del 1957 un piccolo satellite che fa bip bip appunto che si chiama Sputnik 1 e quel satellite diventa uno dei motori iniziali per la corsa allo spazio perché appena arriva in orbita terrestre i Stati Uniti si rendono conto di quanto davvero erano indietro perché anche loro stavano lavorando a un progetto simile, avevano un piccolo satellite di nome Vanguard avevano un razzo comunque lanciarlo e poi alla fine sulla rampa di lancio il razzo con i satellite esplode la stampa chiama l'incidente di Flopnik, prendono ovviamente molto in giro il programma spaziale americano i giornalisti chiedono ad Eisenhower che è presidente come mai gli Stati Uniti sono così indietro tecnologicamente rispetto ai sovietici Eisenhower la prende un po' così allora Eisenhower di suo non era particolarmente preso dallo spazio e le tecnologie spaziali anzi spesso lasciava intravedere che era convinto che fosse più una moda quindi pensava che tempo qualche anno avremmo smesso questa cosa di andare nello spazio o lanciare cose nello spazio, non era quello che era davvero utile quindi lungimirante però Eisenhower aveva un grande pregio era molto convinto che questo ambiente doveva essere civile e infatti quando vede che gli Stati Uniti rimangono molto indietro rispetto all'Unione Sovietica dopo il lancio dello Sputnik 1 crea dal primo gennaio del 1958 la NASA prima c'era già un ente chiamato NACA che coordinava ricerche nazionali su aerospazio specialmente ricerca sui aerei ma quando nasce la NASA ha l'obiettivo particolare in quel caso di sfidare l'Unione Sovietica e riuscire prima dell'Unione Sovietica di mandare un umano nello spazio questa è la nuova sfida anche perché Eisenhower si era reso conto che con la storia dei satelliti erano troppo indietro però pensa che se ci lavoriamo davvero bene riusciremo a mandare almeno prima dei sovietici un umano nello spazio e quando lancia questo programma gli manca tutto non hanno ancora un razzo con cui lanciare un umano non hanno le rampe di lancio da cui lanciare il razzo una volta che li trovano non hanno le navicelle con cui lanciarlo non hanno neanche gli astronauti e le tute che gli astronauti devono indossare quindi però tutto il resto c'è tutto il resto buona volontà quella non manca mai che a parte le battute comunque è molto importante perché è molto di quello che ha spinto ingegneri e tecnici che lavoravano a queste prime missioni a fare l'impossibile perché davvero quando la NASA inizia a lavorare a questo programma tutto quanto è impossibile mai si sarebbero sognati in quel momento che solo 12 anni dopo un americano avrebbe camminato sulla Luna però non corriamo troppo iniziamo con un programma semplice il programma Mercury è il primo programma di volo umano della NASA e come dicevo prima manca ancora tutto devono riuscire a costruire in poco tempo se è possibile tutto da zero la prima cosa che fanno è reclutare una compagnia fare un concorso in generale per chi sarebbe riuscito a costruire la navicella e vince la McDonald Aircraft Corporation che inizia la costruzione di questa boilerplate come viene chiamata navicella conica la forma conica è più aerodinamicamente stabile mentre rientra dallo spazio il volume dentro è molto molto piccolo appena 1,7 metri cubi vi rendete conto di quanto è poco 1,7 metri cubi? cioè persone alte come astronauti di ora moltissimi non riuscirebbero a entrare là dentro infatti quando fanno la selezione degli astronauti devono essere tutti più piccolini per riuscire a centrare in questa navicella e stanno lì completamente fermi hanno un po' di controlli però sono in un volume piccolissimo e tutto quanto è tenuto insieme da bulloni che si scuotono moltissimo nel film First Man rende molto l'idea di come era essere dentro le prime navicelle Mercury o Gemini in particolare che erano così piccole e strette e tutto si scuoteva tantissimo e ti sembrava appunto di essere dentro una lavatrice però è molto affascinante che nonostante questo hanno trovato 7 7 non 1 7 straordinari pazzi piloti che si sono messi la vita in gioco per questo programma ora loro già lavoravano a cose abbastanza folli perché erano piloti di collaudo di nuovi aerei in un mestiere in cui praticamente arrivavi alla compagnia aerea ai militari e ti dicevano bene vedi quel nuovo aereo beh vorremmo che tu vada con lui a fare dei giri in modi molto particolari tutti strani però vogliamo che tu lo spinga al limite per scoprire dove e come si rompe auguri divertiti non sappiamo ancora come si romperà se sei il primo a volare ma fai divertiti pensa che però che vista avrai da lassù non metaforicamente a lassù anche se non è un mestiere in cui la vita è garantita quindi già da questo punto di vista questi 7 sono selezionati come esseri umani particolarmente predisposti a fare cose incredibilmente coraggiose c'è un bellissimo libro a riguardo che si chiama The Right Stuff che vi straconsiglio di leggere se volete sapere di più di com'era il programma Mercury e tutte le gesta straordinarie che hanno fatto ora durante questo video io andrò molto molto velocemente avanti perché arriviamo a Apollo 11 quindi è giusto per darvi un panorama generale però vengono fatti 20 lanci senza equipaggio con tre razzi diversi per riuscire solo a preparare le basi per il primo viaggio con un umano la navicella è grande 3,3 metri per 1,8 metri il massimo del peso che viene portato allo spazio è 1.400 kg e alla fine faranno 6 voli con umani il primo volo è a maggio il 5 maggio con Alan Shepard che diventa il secondo uomo nello spazio ahimè ups anche in questo caso l'Unione Sovietica vince il 12 aprile infatti venne lanciato nello spazio con successo Yuri Gagarin e non solo nello spazio ma in orbita intorno alla Terra mentre nel caso degli americani quando il 5 maggio lanciano il primo essere umano nello spazio Alan Shepard è solo in un volo suborbitale dopo verrà lanciato un altro volo suborbitale con Grissom se mi ricordo bene e poi Glenn verrà lanciato in orbita intorno alla Terra e gli astronauti reclutati i 7 straordinari astronauti i primi 7 leggendari tanto questi sono diventati iconici anche per il pubblico americano perché sono i primi perché poi dopo ci furono tantissime interviste su come si sentivano come si preparavano tutti i test che dovevano fare e sono Grissom Carpenter Shepard Shear Slayton Glenn e Cooper dopo questo programma quando quando si rendono conto gli americani che sono comunque molto indietro e i sovietici già si stanno preparando a missioni con due astronauti iniziano a lanciare il nuovo programma che è Gemini ma questo nasce per un altro motivo vi ricordate che vi dicevo che Eisenhower non era molto convinto dall'argomento spazio beh il nuovo presidente Kennedy è molto molto più appassionato di tutto questo e lo vede come un ambiente molto più importante e strategico nel 1961 dopo che Gagarin diventa il primo umano nello spazio e dopo numerosi altri passi indietro il programma americano lancia una sfida strategica il motivo per cui Kennedy è sicuro di voler puntare su una cosa così folle come mandare un umano sulla luna è perché gli fanno notare che se cercano di competere su piccoli traguardi come il primo attracco in orbita o i primi due umani in orbita o semplicemente qualcosa di questo genere non ce la faranno in tempo perché l'Unione Sovietica sarà sempre un passo o due più avanti a quel punto se il tuo avversario è uno o due passi più avanti invece di mettere un obiettivo a che non so dieci passi da te se lo metti a mille passi da te uno o due passi in più o in meno fa molta meno differenza perché anche per lui sarà comunque un traguardo molto molto lontano quindi il motivo per cui scendono la luna è perché è in qualche modo un modo di resettare la sfida verso qualcosa per cui entrambi i paesi avrebbero dovuto reinventarsi tutto perché anche l'Unione Sovietica che aveva comunque dei vantaggi non aveva per nulla la tecnologia necessaria per andare sulla luna non c'erano razzi abbastanza potenti non c'erano navicelle resistenti quindi anche l'Unione Sovietica si ritrovava di nuovo a zero quando però fa l'annuncio che sarebbero andati sulla luna ancora come dicevo e manca tutto anche soltanto per riuscire a sfidare l'Unione Sovietica su cose piccole per cui immaginatevi come si sentivano quando alla NASA quando gli viene detto sì ora in meno di dieci anni anzi nove anni avete mandate un astronauta a camminare sulla luna e riportatelo a casa follia tutti quanti impazziscono riunioni fino a tardanotte pizze lanciate dai tetti roba folle caffè come se piovesse e dopo tantissime riunioni e riunioni e riunioni in cui si parla di continuo di come sarebbe stata quale sarebbe stata la strategia migliore per arrivare sulla luna decidono sull'architettura generale questo è prima ancora di navicelle o tutto il resto perché prima di iniziare a costruire le tue navicelle o di trovare gli astronauti eccetera hai bisogno di capire come nella pratica farai le cose e quello che viene deciso è fondamentalmente un rientro un viaggio fino alla luna a segmenti invece di farlo con una sola navicella per cui mentre alcuni incluso Van Brown volevano una navicella che poteva arrivare fino alla luna scendere sulla superficie poi da lì ripartire e riarrivare sulla terra tutto in un solo pezzo gli fanno notare che anche i razzi più potenti che pensavamo di poter costruire tipo il futuro Saturn V non sarebbero bastati ora lui ha in mente anche un successore al Saturn V che veniva spesso chiamato Nova che era molto più potente ma questa è un'altra storia anche perché sarebbe costato una follia quindi tornando alla parte credibile la strategia che viene scelta è quella appunto diciamo di segmentare le cose che come insegna il buon Tchalkowski il padre dell'aeronautica moderna almeno per i russi però anche in generale un po' per tutti non ti serve portare tutto indietro lo spazio una volta che hai finito il carburante giusto? se tu prendi il tuo razzo come lo vedete qui e lo dividi in pezzi quando hai finito il carburante nella prima parte tutto questo è peso morto lo lasci indietro e continui con il minor peso con solo quello che ti serve questi altri motori li puoi adattare a funzionare in una condizione di gravità di scusate di pressione atmosferica molto più bassa infatti se fate caso quando i motori sono accesi nei razzi che vedete che stanno andando nello spazio quando sono molto molto in alto dell'atmosfera vedrete che i penacchi del gas che va via dai razzi è molto più orizzontale molto più largo rispetto a quando in basso in cui va direttamente verso il basso come una colonna e questo è per la pressione atmosferica l'atmosfera che pigia contro il gas e lo spinge verso il basso mentre in alto l'atmosfera diventa sempre più rarefatta questo significa che i motori che puoi costruire per la parte alta dell'atmosfera o per lo spazio possono essere ottimizzati per funzionare lì mentre i motori che hai giù possono essere ottimizzati per funzionare giù questo è importante perché puoi tirare fuori molto più prestazioni dal tuo razzo senza spendere di più in carburante perché se c'è una lezione che dovete ricordarvi per quanto riguarda i razzi è che se vuoi andare più veloce hai bisogno di più carburante e se aggiungi più carburante aumenta il peso e se aumenta il peso hai bisogno di più carburante se vuoi andare più veloce e se vuoi andare più veloce hai bisogno di più carburante e così via questa qui questa equazione qui anche se questa è una versione molto molto ridotta è l'equazione dietro come mai andare usare i razzi è così così maledettamente complicato anche se è molto affascinante perché cerchi sempre di trovare almeno un piccolo vantaggio quella è alleggerire il razzo o trovare un modo in cui puoi essere più efficace nell'usare quel poco carburante che hai e quindi qual era il piano per andare sulla luna? beh partiva tutto quanto insieme e dopo circa anzi ve l'ho scritto eccolo qua dopo il primo vabbè tanto ve lo dico perché non so se si legge fino a lì il primo stadio arrivava solo fino a 68 km il secondo stadio arrivava quasi in orbita e il terzo stadio spingeva poi la navicella poi sul resto torneremo spingeva la navicella fino alla luna però c'è una cosa importante il primo stadio poi dopo ritorna e cade sulla terra il secondo stadio oppure il terzo stadio contiene tutto quello che deve andare sulla luna il modulo di comando la navicella vera e propria con gli astronauti dentro e con il motore che serve per spingere da una parte all'altra ma anche il modulo di atterraggio la parte che atterra sulla luna a sua volta è composta da due parti una che serve per scendere e posizionarsi sulla luna e il lander con il modulo di ascesa sopra quindi una volta che la capsula Apollo con il modulo di servizio tutto quanto quindi con il motore eccetera esce è posizionata sopra quindi immaginatevela così esce fuori nello spazio si gira all'indietro torna indietro aggancia questo il lander lo tira via e poi si gira e parte verso la luna arrivano in orbita lunare una volta arrivati iniziano quando sono dietro la luna riaccendono i motori per rallentarsi e posizionarsi in bassa orbita e iniziano a girare un po' intorno alla luna per aspettare il momento giusto con l'angolazione della luce giusta e tutto il resto per scendere e poi tipo le missioni Apollo 11 mi ricordo credo fossero 30 orbite passate intorno alla luna per aspettare il momento giusto poi scendono giù mentre il modulo di comando quindi la navicella con tutto il modulo di servizio eccetera aspetta su questa parte scende giù l'altro astronauta nel modulo di comando li aspetta così loro non hanno bisogno di hanno un punto di appoggio in orbita ma non hanno neanche bisogno di portarsi dietro tutto il carburante che serve per partire da qui fino alla terra giusto? di nuovo risparmio il carburante rendere tutto più efficiente possibile due astronauti quindi scendevano sulla superficie della luna e il modulo che ripartiva era solo questo piccolino che vedete grigio qui ripartiva con un motore che non bastava per andare fino alla terra bastava soltanto per rientrare in orbita lunare da lì si agganciava al modulo di comando gli astronauti si trasferivano dentro il modulo di comando questo modulo di ascesa veniva fatto schiantare sulla luna e il modulo di comando ripartiva verso la terra tutto il viaggio doveva durare circa 8 giorni sarebbero rimasti un giorno sulla superficie questo era il piano generale il modulo di comando tra l'altro è l'unica parte che è più aerodinamica perché ha uno scudo termico tutto quanto perché deve rientrare mentre il lander era incredibilmente fragile e non aveva niente di aerodinamico perché non doveva mai essere nell'atmosfera terrestre lo prendono lo tirano fuori quando sono già nello spazio tutto quello che deve fare è sulla luna per cui anche se quando lo vedete sembra molto fragile perché lo è non aveva bisogno di essere particolarmente resistente perché non c'è atmosfera c'è uno stress particolare l'unico che doveva subire era durante la lunaggio per cui doveva avere delle gambe resistenti per riuscire a reggere l'impatto con la superficie ma per il resto era tutta una questione di ottimizzazione del peso infatti per i primi anni il lander quando iniziano a pianificarlo tolgono cose tolgono sedili tolgono parti metalliche che non servivano cercano di farlo più asciutto possibile perché ogni pezzo piccolino di massa risparmiato è un po' di carburante in più che può usare per il razzo ora vi ho dato un'idea generale quindi dell'architettura del volo parte il razzo dall'orbita terrestre parte il razzo dalla terra arriva in orbita terrestre lì il modulo di comando si aggancia al lander da lì partono verso la luna arriva in orbita lunare il modulo di comando non rimane lì il modulo lunare scende sulla superficie da qui riparte solo il modulo di ascesa si agganciano e ritorno sulla terra fatto questo piano generale però necessitava di un sacco di prove perché a questo punto nessuno sapeva fare una marea di cose che erano obbligatorie tipo nessuno sapeva fare gli attracchi nessuno aveva mai tentato un eva cioè una camminata allo spazio se volete camminare sulla luna è piuttosto importante riuscire a camminare avere tutte che resistono allo spazio non avevano sistemi di comunicazione adatti quindi c'era tutto ancora da provare e incluso anche un volo a lunga durata perché Mercury aveva fatto un volo di al massimo credo fossero poco più di un giorno quindi avevano bisogno di voli molto molto più lunghi e qui nasce il programma Gemini fatto partire nel 61 la prima missione parte dal 64 e dura fino al 66 di nuovo la navicella viene costruita dalla McDonnell Aircraft Corporation è grande 5,6 metri per 3 metri con un volume di 2,55 metri cubi i test vengono all'interno tutto quello che serve viene fatto in vista delle missioni Apollo per cui c'è per esempio il primo computer di bordo il primo sistema di controllo simile a quello che avremmo visto sulle navicelle Apollo viene fatto il primo rendezvous viene fatta la prima missione a lunga durata la missione più lunga credo fosse 14 giorni con una navicella Gemini quindi molto più di quello che era previsto per una viaggia fino alla Luna con le missioni Apollo e gli astronauti vengono reclutati astronauti gli astronauti reclutati per Gemini sono Cooper Grissom Sheeran Armstrong Borman Conrad Lowell White McDevitt Stafford Young Aldrin Cernan Collins Gordon e Scott vi li menziono perché questi nomi anche se magari non siamo familiari sono i nomi dei pochi esseri umani che hanno partecipato al primo programma della NASA di voli umani quindi meritano di essere ricordati almeno questo mese tutti quanti vengono fatti due lanci senza equipaggio per testare la navicella tra l'altro viene fatto un nuovo sistema di fuga mentre per la Mercury c'era la torre che portava via staccando la navicella in questo caso ci sono sedili aiettabili che è folle per una marea di ragioni tanto più in vista di quello che sarebbe successo con Apollo però non è molto sicuro ma in quel momento di corsa continua specialmente perché alla NASA ancora la cultura della sicurezza che sarebbe nata dopo i futuri incidenti era diciamo work in progress i sedili aiettabili per fortuna nessuno ha dovuto usarli perché avrebbero condannato il copaggio probabilmente a morte nel caso perché funzionavano solo per i primi 40 secondi dopodiché la navicella andava troppo veloce oltre alla velocità del suono quindi non potevano più staccarsi ma non solo l'atmosfera all'interno per pressurizzarli era di ossigeno puro e restavano così per qualcosa come un'ora e mezza e come abbiamo visto dopo con l'incidente di Apollo 1 con l'incendio subito se tu hai un'atmosfera di questo tipo con ossigeno puro e una minima fiamma e una minima fiamma dopo prendi fuoco e se in caso di esplosione del razzo loro fossero stati espulsi dai sedili è possibile che entrambi sarebbero finiti in fiamme quindi non esattamente un modo sicuro per mettere in salvo gli astronauti però questo è cambiato poi per le missioni Apollo eccetera però le missioni Gemini hanno portato un sacco di cambiamenti tecnologici molti di questi erano incredibilmente rischiosi dopo i due lanci senza equipaggio ci sono stati dieci voli con astronauti Gemini 4 ha visto il primo astronauta a camminare nello spazio per la NASA anche in questo caso furono battuti dai sovietici con la prima camminata nello spazio di Alex Leonov nel caso degli americani il primo a camminare nello spazio è Ed White Gemini 5 dura otto giorni nello spazio ed è una prova generale del tempo che ci metterebbero per andare e tornare sulla Luna Gemini 6 e 7 fanno un rendezvous nello spazio e si avvicinano le navicelle e Gemini 7 resta nello spazio per 14 giorni nuovo record come dicevo prima Gemini 8 fa un docking un attracco con il stadio superiore la Gena e questo è fondamentale per riuscire a fare l'attracco di cui dicevo prima quando il modulo di comando deve prendere il lunder staccarlo e portarselo dietro fino alla Luna Gemini 8 è un successo c'è Armstrong di mezzo che è comandata la missione ma ci sono dei grossi problemi se qualcuno di voi ha visto First Man se lo ricorderà il modulo con la Gena inizia a girare fuori controllo quasi uccidendo l'equipaggio e grazie ai calcoli fatti live in quel momento di Armstrong che non è svenuto per fortuna riescono a staccarsi con successo dal modulo a Gena e ritornare sulla Terra sani e salvi Gemini 10 fa il record di durata di un Eva e Gemini 11 invece Eva sta per extraveicoli attività di camminate spaziali anche se è sempre difficile chiamare camminate mentre che visto che sono comunque attività molto intense lavorative eccetera Gemini 10 tra l'altro dimostra con Buzz Aldrin che si può lavorare effettivamente nello spazio si può fare un lavoro non soltanto di fare ciao con la manina verso la camera ma usare strumenti eccetera perché avevano aggiunto sulla nave c'è una serie di prese per gli astronauti su cui potevano girarsi più comodamente rispetto a Ed White che quando era uscito dallo spazio non aveva nulla a cui appigliarsi quindi ha fatto un'enorme fatica solo per riuscire a stare vicino alla nave Gemini 11 stabilisce il record di altezza arrivando a 1369 chilometri che li porta vicino a fasce di radiazione tra l'altro per testare la resistenza della nave per testare quante radiazioni subivano le navicelle spaziali e se vi ricordate uno dei pericoli per viaggi spaziali lontani dalla terra erano le fasce di Van Allen il modo in cui avrebbero risolto questo problema è un po' nella parola cioè fasce significa che può andare sotto le fasce quindi in zone molto meno radiative rispetto a quelle più intense e poi andando molto veloce perché il problema era il tempo di esposizione se resti in quella zona i problemi diventano gravi ma se vai molto velocemente il tempo di esposizione è simile a qualcosa come una radiografia sulla terra quindi niente di troppo proibitivo basta andare nella zona meno radiativa e andare molto veloce ed è questo quello per cui si sono preparati alla fine del programma Gemini nel 1966 si passa finalmente al programma Apollo ma non è che inizia nel 1967 in realtà inizia nel 1961 durante tutto questo periodo quando stavano facendo ancora voli con Mercury e Gemini già stanno costruendo pezzi del programma Apollo stanno costruendo i pezzi del Saturn V stanno preparando il lander stanno testando con vari astronauti le tecnologie necessarie per controllare il lander durante la discesa quindi molte delle cose necessarie per il programma Apollo sono nel 1967 già a buon punto non tutte infatti ci sono grossi problemi con il lander hanno problemi nel test dei razzi del modulo di ascesa si rendono conto per esempio che il motore del modulo di ascesa è talmente difficile da costruire che tutte le volte che lo accendevano il carburante che doveva usare era così corrosivo che distruggeva completamente il razzo e infatti quando hanno effettivamente poi lanciato la navicella sulla luna il motore del modulo di ascesa con cui dovevano ripartire non poteva essere testato prima non era mai stato testato semplicemente perché se lo testavano il carburante rovinava completamente il motore quindi non lo potevi più usare una seconda volta e sì immaginate se vi dessero una macchina quando andate a comprare e vi dicessero beh questa non l'abbiamo mai testata prima sarei il primo a mettere la chiave e a farla partire però l'abbiamo testata con altre macchine che sono uguali e con le altre ha funzionato quindi dai vedrai che andrà bene a occuparsi di tutto questo dello sviluppo del lander dei motori e tutto quanto è la Grumman Northrop Grumman Corporation mentre per quanto riguarda la navicella Apollo e il modulo di servizio se ne occupa la North American Aviation quindi sono due nuove compagnie rispetto alla McDonald dei primi due programmi ora il programma Apollo è di suo è molto vasto cerco di risurlo al minimo però la navicella è un solo pezzo poi c'è il modulo di servizio che vedete con quello attaccato con il grande motore e come dicevo poi dopo il lander la navicella era grande 3,48 metri per 3,9 metri e aveva un volume abitabile di 5,9 metri non so se ve l'ho detto forse mi sono scordato dimensionale Gemini aveva un volume abitabile 2,55 metri cubi mentre qui si passa a 5,9 metri cubi quindi oh mio dio si sta a larghi guarda quanto spazio posso addirittura alzare quasi il braccio intero verso l'alto è così tanto spazio che per la prima volta astronauti che vanno verso la luna per esempio durante la missione Apollo 8 si inizieranno a sentire male per il mal di spazio cosa che nessuno aveva sperimentato prima semplicemente perché nell'altra navicella tutto il loro viaggio era abbastanza fermo sul sedile quindi immaginatevi quelli che sono restati per 14 giorni nello spazio fermi in uno spazio in cui non potevi neanche sgranchirsi si beh non è nessuno ha detto che era facile fare queste missioni nelle navicelle Apollo poi dopo avevi un pochino più di spazio nelle missioni almeno quelle andavano con il lander verso la luna perché potevi entrare anche dentro il modulo di atterraggio il modulo di atterraggio in sé aveva un altro volume da 6,7 metri cubi e la massa del solo navicella solo missione Apollo era 5560 kg paragonatela a quella con cui hanno iniziato di 1400 kg cioè potevi mettere qualcosa come almeno tre e mezzo forse quattro mercuri dentro il peso sulla bilancia contro il peso di solo la navicella Apollo ed è incredibile quante delle cose di questa navicella e di tutto quanto furono fatte a mano lo scudo termico fu fatto a mano le piccole placche di metalli che tutto intorno erano state messe lì a mano il computer era stato i circuiti erano stati cuciti a mano con fil di rame i circuiti venivano cuciti wow i paracaduti che servivano per la discesa per esempio era così difficile da piegare nel modo giusto per poter risparmiare spazio e poterli permettere comunque di aprirsi molto velocemente che per riuscire ad addestrarsi a piegarli servivano mesi e mesi di lavoro e solo tre persone della NASA sapevano piegare i paracadute delle missioni Apollo e quelle tre persone erano la NASA aveva vietato di andare insieme in macchina contemporaneamente dovevano sempre andare separati perché la NASA non voleva perderli perché non aveva nessun altro che conosceva come piegare il paracadute ora il modulo di servizio era 7,5 metri per 3,9 metri e pesava da 23 a 24 mila kg molto molto più pesante della navicella mentre il modulo lunare pesava dai 15 mila a 16 mila kg questa variazione dipende dalla missione perché le missioni successive alle prime le missioni 16, 17 specialmente che avevano anche i rover pesavano di più infatti alla fine il razzo Saturn V questo bel razzo qua che vedete davanti riusciva a portare nel massimo carico possibile fino all'orbita terrestre 140 tonnellate wow cioè nessun razzo dopo è mai riuscito a mettere in orbita così tanto peso il razzo più potente ora presente al mondo il Falcon Heavy è meno della metà della potenza del Saturn V e il più potente razzi che avevano fatto prima del Saturn V altri razzi con cui sono andati in orbita Gemini o Mercury erano meno potenti di un solo motore del Saturn V cioè questa creatura bruciava consumava qualcosa come 20 tonnellate di carburante al secondo se ricordo bene pesava 3 milioni di chilogrammi ogni singolo motore F1 era costruito in una fabbrica apposta in cui avevano bisogno di un sacco di spazio e li testavano apposta era una follia prima o poi farò un intero video solo sul Saturn non ne parlo troppo in questo caso perché andremo veramente per la tangente rispetto alla missione Apollo 11 quindi cercherò di concentrarmi di più su quello vi dico solo che quando partiva a parte essere ricoverante di una mini bomba atomica se esplodeva però era così intenso solo il rumore di questo razzo che avevano bisogno di lanciare enormi quantità di acqua verso i motori solo per far sì che il rumore non distruggesse il razzo quindi sì quando il rumore di quello che stai usando è così forte da farti esplodere sai che hai raggiunto il volume adeguato per un buon concerto rock quello è il buon volume che vuoi raggiungere a parte il battute il primo stadio usava un carburante speciale a base di un tipo particolare di carosene chiamato RP1 mentre il secondo e il terzo usavano idrogeno liquido e ossigeno liquido erano tenute a bassissime temperature infatti se guardate nelle riprese del lancio vedete ghiaccio staccarsi dai bordi perché continuava a formarsi a contatto con la superficie freddissima del razzo in sé era pieno di spazi vuoti e poi c'erano vari tubi eccetera di controllo sopra e sì un pezzo di tecnologia straordinario ora lasciando da parte un attimo il razzo torniamo a chi sono stati gli astronauti di tutto il programma Apollo alcuni li riconoscerete perché erano reclutati dal programma Mercury dai originali 7 altri sono arrivati dal programma Gemini e altri ancora come nuove reclute apposta solo per Apollo c'erano Grissom White Shearer Shaffee Shepard McDevitt Borman Lovell Stafford Young dico solo i cognomi così sono più veloci Armstrong Conrad Scott Sernan Collins Aldrin Gordon Hysley Cunningham Shikard Shikard sempre rotta con i cognomi Anders Bean Schmidt Mattingly Swigard Hayes Rousa Mitchell Warden Erwin Duke Evans Tra l'altro ho avuto enorme onore e tutte le volte mi commuovo a ripensarci di conoscere di persona 4 di loro 4 di questi astronauti li ho potuti conoscere che hanno camminato sulla luna stringerli la mano ed è un'emozione incredibile vederli raccontare con ancora gli occhi pieni di meraviglia come se fosse appena successo quello che hanno vissuto decenni fa è stata una delle emozioni più belle tra l'altro grazie a Rodri che mi ha portato se stai guardando ti abbraccio forte mi ha dato l'opportunità di conoscerli allora le missioni in sé sono in totale da Apollo 1 fino ad Apollo 17 divise in 4 categorie quelle prime che servono soltanto per i test che vengono fatti neanche col Saturn ma solo per la forma aerodinamica solo per testare per le cadute poi ci sono quelli per i primi test in orbita terrestre nello spazio le missioni per le prime orbite più veloci con qualche astronauta poi dopo le missioni sulla superficie e infine mi sa che ne ho detto più di 4 comunque la versione finale Jake sono quelle più scientifiche quelle più lunghe che possono stare fino a 3 giorni sulla superficie invece di uno come la missione Apollo 11 per esempio la prima missione con astronauti è Apollo 1 ed è quella in cui avviene la prima grande tragedia che cambia fondamentalmente completamente non solo il programma ma la NASA stessa e nel 1967 Grison, White e Shaffee perdono la vita durante un incidente in cui sono in cima al razzo stanno testando sistemi di comunicazione e tutto quanto e l'atmosfera all'interno è ossigeno puro pressurizzato ci sono problemi di telecomunicazioni alla novicella all'interno a fili scoperti tutta una serie di problemi di negligenza dovuti alla corsa che c'è stata per arrivare in tempo per il lancio di un umano prima della fine del decennio tutta una serie di pratiche che non erano non erano abbastanza sicure nessuno faceva abbastanza attenzione non quanto sarebbe successo dopo e alla fine una scintilla fa partire un incendio la porta non si apre l'ossigeno dentro fa sì che bruciano carbonizzati entro pochi secondi è una delle peggiori tragedie della NASA ho fatto un intero video dedicato a questo per cui se volete sapere di più su cos'è successo in particolare com'è andata lo trovate qui sotto ve lo lascio in descrizione Apollo 1 segna un momento di svolta come dicevo sia per le buone pratiche alla NASA ma anche per il modo in cui gli astronauti stessi percepiscono questa impresa perché poi molti di questi quasi tutti vivevano nello stesso posto si incontravano di continuo andavano a cena insieme quindi questo era il modo in cui vivevano era molto più molto più da fratelli rispetto a altri programmi di ricerca eccetera in cui ti vedi magari qualche volta non era non somigliava a niente di fatto prima quindi quando alcuni di loro muoiono muoiono persone con cui hai vissuto per anni alcuni dei momenti più straordinari della tua vita e vivevano letteralmente dall'altra parte di casa tua e le mogli si conoscono tra di loro e questo sarà tutto un altro video in cui vi racconterò di come hanno vissuto questa parte le famiglie dei astronauti però cosa succede dopo il programma Apollo ha un momento di fermo ci sono dubbi se conviene davvero andare sulla luna se davvero bisogna fare questo sforzo nonostante i rischi gli astronauti sono convinti che ne vale la pena la NASA cambia cambia moltissimo del modo in cui si approccia a queste missioni in maniera molto molto più rigida e molto più sicura e tornano a lanciare navicelle Apollo con Apollo 4 con un test del Saturn V per qualificare lo scudo termico lo stesso anno però verso novembre se mi ricordo bene Apollo 5 e 6 fanno i primi test di guida in orbita Apollo 7 è il primo con umani con Sheeran Isley e Cunningham e Apollo 8 vengono lanciati verso l'orbita lunare senza modulo lunare anche qui è una scommessa bella grossa perché il modulo lunare veniva usato come scialupa di salvataggio nel caso in cui ci fosse qualche problema con il modulo di comando infatti questa è la storia che vi racconterò per Apollo 13 perché se vi ricordate in quel caso ci fu un problema con il modulo di comando e per fortuna avevano il modulo di allunaggio e si sono rifugiati lì e grazie a quello sono riusciti a sopravvivere anche perché però avevano il motore con cui spingersi verso la casa mentre con Apollo 8 non avevano niente di tutto questo dovevano solo sperare che tutto funzionasse bene alla prima e sono stati i primi esseri umani a essere lanciati verso la luna il primo viaggio con umani verso il nostro satellite verso un altro mondo ed è venuto a Natale del 1968 Apollo 9 porta tre astronauti con il modulo di atterraggio in orbita terrestre per testare e vedere se tutto funziona bene e Apollo 10 ad aprile maggio del 2000 del 1969 parte verso la luna per fare una prova generale arriva in orbita lunare fa tutto quello che deve fare Apollo 11 scendendo fino a 15 km e basta dalla luna e poi ripartendo immaginate come vi sareste sentiti se vi avessero portati fino a così poco dall'atterraggio da diventare i primi esseri umani a camminare sulla luna e poi dovete tornare via alla NASA spesso raccontano che hanno diminuito il carburante che avevano a disposizione gli astronauti giusto per fargli sapere che se volevano scendere non potevano più tornare su perché non avevano più carburante anche se gli astronauti poi dopo scherzando dicono sempre beh chi ti dice che non eravamo comunque disposti a essere i primi anche se non potevamo scendere ritornare però al fine fanno i bravi ritornano a casa sane e salvi e molti dei problemi che sono venuti fuori durante Apollo 10 sono stati fondamentali per preparare poi la missione Apollo 11 che partiva a luglio mentre Apollo 10 è ancora in orbita intorno alla Terra già stanno scusate verso la Luna stanno già preparando Apollo 11 infatti già a maggio andiamo andiamo voglio a maggio il 20 maggio mentre Apollo 10 è ancora via Apollo 11 inizia a essere portata verso la rampa di lancio il 26 giugno iniziano i test per il countdown con il Saturn V sulla piattaforma di lancio 39A durerà fino al 2 luglio e il 16 luglio alle 4 di mattina Seyton va lì con un bastone a svegliarli a Neil Armstrong e Buzz Aldrin che sono stati scelti come i due che scenderanno per primi sulla superficie lunare e Michael Collins che è stato scelto come comandante del modulo che rimarrà in orbita alle 4 di mattina si svegliano tutti e tre alla doccia alla barba colazione con uova e pancetta che è quello che ha portato gli astronauti fino alla luna alle ore 6 e 30 partono verso il complesso di Cape Canaveral considerate che poi dopo partiranno soltanto alle 15 e 32 ore italiane per cui insomma c'è un bel divario tra solo quando arrivano arrivano lì si devono mettere le tute preparare fare gli ultimi controlli salire verso la rampa arrivare su eccetera tutti quanti sono molto emozionanti c'è circa un milione di persone che sono arrivati a vedere il lancio di Saturn V con Apollo 11 e il 19 luglio alla fine sono già in orbita lunare quindi dopo il lancio incredibile visto da più di un milione di persone dal vivo e dopo tutto quello che vi ho raccontato immaginate come si sentivano gli astronauti di Apollo 11 ad essere lì accanto alla luna la missione viene chiamata al di là di Apollo 11 ma i nomi dei moduli sono Eagle per il modulo di atterraggio e Columbia per il modulo di comando Eagle perché è sull'insegna che ha progettato tra l'altro Michael Collins che è nato a Roma tra le altre cose piccola curiosità e Michael Collins progetta l'insegna e scrive soltanto Apollo 11 c'è un'aquila reale che è il simbolo dei Stati Uniti con un ramocello di olivo perché vengono in pace c'è la terra sullo sfondo in lontananza anche se la luce arriva dalla parte sbagliata Collins però vabbè ecco altra cosa particolare non ci sono i nomi rispetto alle altre insegne perché gli astronauti dell'Apollo 11 hanno sottolineato che volevano rendere omaggio a tutti quelli che hanno lavorato dietro questo programma dall'inizio da quando i primi astronauti partirono verso l'orbita fino a loro quindi non ci sono soltanto non sembrava giusto fare la prima missione con soltanto i loro nomi quando il merito era di tutti quelli che ci hanno lavorato e arrivano in orbita lunare dicevo il 19 e verso le 19 21 ore terrestre fanno 30 orbita intorno alla luna devono aspettare il momento giusto perché poi hanno scelto il sito di allunaggio nel mare della tranquillità perché era il momento migliore con l'alba per avere tanto spazio vuoto a disposizione l'alba era importante perché le tute non erano sicure sarebbero sopravvissute durante il mezzogiorno lunare infatti questo è un altro problema per tornare sulla luna che le temperature fluttuano tantissimo all'alba il sole è ancora basso all'orizzonte le temperature non sono troppo alte ma quando è direttamente sopra può arrivare temperature molto più alte sopra i 150 gradi celsius poi durante la notte scende fino a meno 100 tranquillamente quindi arrivano verso l'alba il modulo eagle il 20 luglio si stacca inizia la discesa columbia resta in orbita ma anche il collins non è dispiaciuto a rimanere via un po' perché si può sgracchiere di più ma più che altro perché comunque pensa che il suo ruolo giustamente sia molto importante quindi non è che mentre è in orbita sta lì a guardare gli astronauti giù o a pensare boh chissà cosa fanno no no lui è molto importante per la missione quindi fa un sacco di operazioni di perlustramento mentre è in orbita lunare molte delle immagini scientifiche della luna fondamentali arrivano da lui per questa missione e cerca anche di capire dove esattamente sono allunati cercando di avere delle foto del contesto geologico per poi mettere meglio in contesto le rocce riportate eventualmente dai astronauti delle missioni Apollo quando arriva il modulo Eagle inizia la discesa quando scendono sono circa 1800 metri dalla superficie iniziano a notare Bose Holdring e Neil Armstrong che sono a circa 2-3 secondi in anticipo rispetto al previsto quindi stanno ancora scendendo velocemente verso la superficie però rispetto a quando notano crateri eccetera che avvano sulle mappe molto presto quindi c'è un problema stanno andando troppo veloci poi c'è un altro problema che compaiono degli errori che non erano previsti per fortuna poi questi errori sono comparsi perché era un modo dei computer per dirgli che non aveva causato un aborto ma stava notando che c'erano dei problemi ma senza interrompere tutto quanto poi abbiamo scoperto che questi problemi erano legati ad altri fattori del sistema elettronico eccetera tutta una roba complicata comunque non erano importanti per la missione ma loro non lo sapevano lì per lì per cui hanno solo detto alla NASA il nostro computer dà un errore 12.01 e 12.02 anche la NASA ha preso subito il programmatore e gli ha detto cos'è questa roba e hanno dovuto fare un debug subito guardare subito il programma per assicurargli questo mentre mancavano pochi secondi all'allunaggio quindi wow mancava dicevo relativamente pochi secondi mancava un paio di minuti e Neil Armstrong passa sopra la zona dove dovevano scendere e poi nota che il cratere che era segnato sulla mappa in realtà da vicino era molto più caotico e pieno di rocce giganti il cratere si chiama West e quindi invece di scendere in quella zona continua ormai sono arrivati a 33 metri continua continua mancano 90 secondi di carburante e basta trova un'altra zona liscia si avvicina ma anche lì quando la vede è troppo ricca di detriti e poi è all'interno di un cratere quindi invece di scendere dentro il cratere che magari era troppo rischioso continua mancano meno di 50 secondi di carburante disponibile massimo anche se questo l'abbiamo scoperto dopo perché in realtà lui era convinto mancassero qualcosa come 20 secondi e alla fine continua ancora e scende piano piano finalmente in una zona tranquilla però appunto mancavano poche decine di secondi e basta e non bastava più il carburante per tornare via dalla luna brividi a casa Charlie Duke e gli altri che sono in Capcom sono completamente senza fiato arriva la conferma dopo che spengono i motori tra l'altro cosa buffa in realtà appena toccano i fili legati alle gambe se vedete il lander in fondo aveva dei lunghi fili che servivano per toccare subito la superficie e dire agli astronauti quando dovevano spegnere i motori perché avevano paura che se non spegnevano il motore troppo cioè se non spegnevano subito il motore e aspettavano di toccare terra il gas del motore che avrebbe colpito la superficie sarebbe stato riflesso indietro e quindi avrebbe potuto creare una zona di alta pressione dentro il motore facendolo esplodere per cui dicono allora mi raccomando eh Neil quando vedi il segnale spegni il motore ma Neil si scorda e quindi spegni il motore ma dopo sono già scesi quindi però tutto è andato bene per fortuna nessun problema tutto è andato benissimo e ha creato un po' di confusione su ha toccato o non ha toccato che se vi ricordate per chi ha seguito all'epoca in diretta in Italia c'è stato un grande diverbio su un giornalista italiana che cercavano di capire se era già sceso o no sulla superficie e poi una volta arrivati rimangono per circa due ore a prepararsi ed escono finalmente fuori sulla luna Armstrong quando apre la porta e inizia a scendere al battito cardiaco più alto che ha avuto durante tutta la missione non durante l'allunaggio quando mancavano pochi secondi no no quando sta per uscire fuori il suo cuore accelera tantissimo arriva scende piano piano sulle scale prende un anello posizionato da una parte lo tira per sganciare un braccio robotico con la camera che poteva riprendere in alta risoluzione soltanto che c'era non c'erano molti sistemi utili per mandare quelle immagini ad alta risoluzione fino alla terra per cui alla terra arrivano un po' più sgranate e poi da lì da un monitor sono riprese dalle tv con le telecamere per trasmettere sulle altre tv per cui la qualità delle immagini di questo primo passo non è granché per le camere successive sono stati trovati sistemi migliori infatti se guardate Apollo 12 14 15 si vede meglio però Apollo 11 comunque riesce a vedersi nell'astronauta si vede nell'amstrong mentre si avvicina dato che lui ha colpito la superficie piano piano non ha lasciato spento il motore non ha schiacciato i piedi il modulo è più in alto del previsto quindi devono lasciarsi andare a cadere sulla superficie ha ancora un cordone umbilicale con cui può tirarsi su se succede qualcosa che non va mette un piedino sopra e poi tutto a posto scende e fa il discorso del piccolo grande passo ci sono 600 milioni di persone che guardano questa diretta in proporzione oggi non c'è mai stato un evento così grande perché oggi ci sono eventi con molti più pubblico molto più pubblico ma ci sono anche molti più umani 600 milioni di persone nel 1969 non sono mai successi dopo cioè in scala non c'è mai stato un evento di queste proporzioni e all'ora italiana 0456 c'è il primo essere umano che cammina sulla luna a coronamento tra l'altro di un programma vastissimo che li ha portati in 12 anni da non sapere come lanciare un umano in orbita terrestre e aver lanciato un satellite appena pochi mesi prima essere riusciti a camminare sulla superficie lunare appena Neil Armstrong scende tra l'altro prende dei campioni da mettere nel tastino giusto per essere sicuro che anche nel caso peggiore in cui dovevano subito rientrare e partire per un problema non tornavano a casa a mani vuote e c'è un'altra c'è un'altra cosa ecco volevo dirvi Neil Armstrong prima appena arriva insieme a Buzz Aldrin che scende subito sulle scale gli fa le foto eccetera la camera fissata sul petto srotala prima della bandiera un esperimento dell'università di Zurigo se mi ricordo bene della Svizzera che serve per misurare quanta radiazione arrivava sulla superficie della luna e questo per massimizzare la durata dell'esperimento viene srotolato subito lasciato lì e poi dopo si occupano di tutte le altre cose bandiera eccetera e quell'esperimento in fondo piccolino ha una bandiera che è quella della Svizzera quindi fatto buffo la prima bandiera sulla luna non è non è da parte degli americani non è la bandiera americana ma la bandiera Svizzera la bandiera americana ha un po' più di sfortuna perché quando Buzz Aldrin arriva poi dopo a cercare di infilarla fa un sacco di fatica perché non riescono a infilarla più di 5 centimetri circa e basta e infatti hanno paura che quando faranno le foto in diretta le riprese del saluto alla luna la bandiera sarebbe caduta di sotto e sarebbe stato un po' non particolarmente scenico ecco per essere mostrata in tv però alla fine tutto va bene fanno un po' fatica a srotolarle la bandiera perché se la guardate è tutta piegazzata perché appunto non c'è atmosfera non c'è vento che può lisciarla rimane tutta piegata così fatto con la bandiera iniziano a esplorare la superficie iniziano a camminare saltellare intorno si accorgono che è molto più faticoso per alcuni aspetti camminare sulla luna ma è meno faticoso se trovi il modo giusto a saltellando quindi è più faticoso camminare che saltellare infatti trovano subito il modo di saltellare con il ghiato o canguro Buzz Aldrin si mette a fare le foto di varie cose sulla luna del modulo prende l'antenna gli esperimenti lasciano un sismografo lasciano un riflettore per poter vedere la base direttamente con il laser dalla terra mentre Neil Armstrong va verso un piccolo cratere nelle vicinanze chiamato Little West Crater fa un percorso di circa 60 metri tra l'altro la NASA gli dice non ci andare troppo vicino perché non sappiamo quanto è scivoloso potresti cadere dentro il cratere lui fa finta di non aver ben ben sentito fa tutto comunque il giro dietro si fa la foto fa la foto del cratere con la sua ombra e il modulo in lontananza che è una delle foto più belle della missione moltissime delle foto in realtà ritraggono principalmente Buzz Aldrin perché la camera era sul petto era una sola era sul petto di Neil Armstrong quando poi la passa a Buzz Aldrin Buzz fa molte più foto del modulo delle rocce eccetera e ne fa poche di Neil tra l'altro quando la sta per fare di Neil che fa il saluto alla bandiera americana in realtà chiama Nixon perché non ha una foto Neil Armstrong con la bandiera semplicemente perché è arrivata la chiamata da parte di Nixon che come prima cosa dice questa deve essere la chiamata più importante credo mai fatta da questo telefono ah no credo che la prima cosa che dice è chiamo da un telefono a Nixon comunque devi avere risposto ah no quindi non stai usando un TARDIS peccato Nixon poi dopo li congratula ma in tasca tra l'altro ha ancora un disco che cosa strana no li congratula e dice è meraviglioso quello che state facendo è super importante eccetera eccetera siamo tanto gasati anche se lui sarà quello che combatterà fino all'ultimo per cancellare tutto il programma Apollo però grazie ragazzi siete meravigliosi in tasca ha un discorso da fare nel caso in cui muoiono quante emozioni contrastanti tutto insieme se fossero rimasti sulla superficie senza la possibilità di andarsene gli astronauti avevano la possibilità di accendere la nedere carbonica per lasciarsi soffocare oppure potevano camminare in giro per la luna fino a quando non finiva l'ossigeno e in entrambi i casi sarebbe stata una morte terribile la NASA era pronta a fargli fare un ultimo messaggio alle proprie famiglie cercare di comunicare con loro e tutti questi pensieri gli astronauti non è che non ce l'hanno presenti soltanto che confidano nel lavoro eccezionale fatto dagli ingegneri negli anni passati e questa per me è una delle cose più emozionanti perché sapevano quali erano i rischi e quanto era difficile fare una missione del genere e nonostante i problemi e le morti che c'erano state comunque decidono di mettere le proprie vite nelle mani degli ingegneri e mezzo milione di persone hanno lavorato a questo programma ed è stato davvero uno dei momenti più emozionanti di fiducia nell'umanità e di quanto possiamo essere straordinari quando lavoriamo insieme e quindi credo che poche cose dicono che ho fiducia in te tanto quanto sono disposto ad andare là fuori e lanciarmi dalla luna con un motore che non hai mai testato soltanto perché mi dici che andrà bene e lo fanno vanno sulla luna e quando rientrano ah ecco quando ritornano nel modulo Basaldrin tra l'altro fa una foto bellissima del sorriso di Neil Armstrong che è appena realizzato di essere il primo essere umano a aver camminato sulla superficie di un altro mondo con tanti cuori e prima di ripressurizzare la navicella cioè far rientrare di nuovo aria fanno un piccolo esperimento perché nessuno sapeva con certezza come si sarebbe comportata la regolite la polvere lunare in presenza di ossigeno ora quella polvere tra virgolette regolite quella che vedete sulla luna è lì da miliardi e miliardi di anni e non è mai stata in contatto con aria e con ossigeno e quindi alcuni chimici avevano paura che sarebbe stata incredibilmente reattiva e che se esposta all'ossigeno avrebbe potuto esplodere quindi immaginate come sarebbe stato se gli astronauti appena rientrati pieni di polvere da tutte le parti sarebbero esplosi e presi preso fuoco non bel vedere modo piuttosto terribile di finire una missione così incredibile quindi entrano pressurizzano piano piano l'atmosfera e mettono un po' di polvere su un pezzo di su un tavolino all'interno di una superficie piatta e aspettano di vedere man mano che pressurizzano se succede qualcosa se fossi se potessi essere un fantasma potessi tornare indietro nel tempo piccolino mi piacerebbe essere all'interno del modulo per vedere i loro sguardi mentre guardano questa polvere mentre aumenta la pressurizzazione poi dopo tutto è a posto si sente solo un odore di bruciato gli astronauti alcuni astronauti l'hanno descritto come odore di cenere bagnata altri come l'odore che lascia un fucile dopo che hai sparato qualcosa del genere probabilmente dovuto appunto a tutta l'ossidazione degli elementi chimici presenti nella regolite ma niente esplosioni tutto a posto prima di partire dalla luna lasciano alcune cose sulla superficie lasciano una busta con alcuni tributi lasciano un ramuscello di olivo in oro un piccolo dono in segno di pace c'è una targa sul lander con scritto veniamo in pace a nome di tutta l'umanità i loro nomi e la mappa del mondo di entrambi gli emisferi un'altra cosa carina che fanno è portare dei messaggi da tutte le nazioni inclusa l'Italia infatti un po' dopo vi leggerò cosa ha scritto l'Italia che è rimasto sulla superficie della luna c'è un messaggio italiano per Apollo 11 rimasto sulla luna però ecco un'altra cosa molto emozionante secondo me è cosa si sono portati di personale gli astronauti in particolare Neil Armstrong che si è portato due cose prima cosa che si è portato in taschino era un pezzo di legno e stoffa del primo aereo dell'umanità del Wright Flyer dei fratelli Wright del 1903 e 63 anni dopo il primo volo dei umani dopo quel primo piccolo passo ecco in un altro ma ora sulla superficie della luna ed è incredibile pensare che in solo 63 anni siamo arrivati fino a lì a ridimostrazione di cosa siamo capaci quando lavoriamo insieme tra l'altro quel piccolo pezzo è stato poi donato dal museo e ha avuto tutta una lunga storia ma l'altra cosa che Neil Armstrong si porta con sé è una spilla che era stata preparata da Dickie Slayton che era capo del programma di Apollo per darlo come simbolo eccetera come spilla attributo alla fine ai tre astronauti di Apollo 1 lui le aveva preparate prima poi dopo avviene la tragedia e le spille le dà come ricordo le dà alle mogli alle vedove dei tre astronauti che le ridanno indietro non le vogliono tenere una di queste Dickie Slayton la dà a Neil Armstrong perché Neil Armstrong la vuole portare sulla luna e rimane lì quindi Neil Armstrong lascia poi sulla luna questa spilla dei tre astronauti di Gus Grissom Shaffi e Ed White che sono morti in Apollo 1 ripartono nel modulo dormono prima di partenza in realtà sette ore di sonno meritate dopo tutta la fatica che hanno fatto sono restati circa quasi una giornata sulla superficie lunare e poi dopo vengono svegliati con una musica che viene scelta dal centro di comando a casa e poi da lì partono per agganciarsi al modulo orbitale e Michael Collins le aspetta a braccio aperte riprendono la via di casa e altri due tre giorni di viaggio arrivano sani e salvi e quando arrivano sulla terra vengono non solo accolti da un pubblico enorme sparso per tutto il pianeta che vede in questo una delle imprese più grandi dell'umanità tra l'altro congratulazioni arrivano da tutto il mondo arrivano da l'Unione Sovietica arrivano dai paesi che normalmente era in guerra tra di loro e viene visto come un momento che non riguarda solo un paese ma viene visto come qualcosa di così straordinario per tutti gli esseri umani che ancora ancora oggi 50 anni dopo è difficile rendersi conto di quanto è stato incredibile come momento ora vi dicevo che avrei concluso con la lettura di cosa hanno detto cosa hanno lasciato gli italiani allora questo è il messaggio lasciato l'hanno lasciato 73 paesi in generale l'Unione Sovietica non c'è ma ci sono altri paesi c'è un sacco di paesi comunisti quindi c'era comunque questo senso di diplomazia di amicizia anche se l'Unione Sovietica non ha mandato un messaggio personale però ecco cosa dice il governo italiano il coraggio e la tecnologia dei Stati Uniti hanno portato sul nostro satellite questo messaggio del capo della nazione italiana che si vanta di avere tra i suoi figli Galileo Galilei il cui genio ha gettato le basi per la scienza moderna la conquista della luna è una pietra miliare gloriosa lungo la strada che tutta l'umanità percorre verso l'obiettivo della pace la libertà e la giustizia firmato Giuseppe Saragat e questo è il messaggio che rimane sulla luna tra l'altro farsi molto bello specialmente per l'obiettivo della pace la libertà e la giustizia e mi piace che viene sottolineato come uno Galileo è il contributo perché c'è anche un tributo a Galileo da parte delle missioni di Napolo in Napolo 15 quando portano una piuma e un martello e li lasciano cadere insieme per dimostrare quattro secoli dopo che Galileo aveva ragione che tutti gli oggetti dalla gravità indipendentemente dal loro massa e lo dimostrano sulla superficie della luna e quindi è bello che ci sia la nomina di Galileo ma mi piace anche che la conquista della luna viene vista appunto all'interno di un panorama molto più grande come quello dell'obiettivo di pace e libertà e giustizia in un contesto appunto di guerra fredda e con questo spirito ci salutiamo è stato un video molto molto lungo è molto complicato è un sacco di carne a fuoco e mi rendo conto che io ero partito con l'idea dai sarà un video di un quarto d'ora venti minuti venticinque minuti a esagerare ed eccoci qui così imparo a dire che faccia la parola a parlare in cinque minuti di tutto il programma Gemini però spero comunque che sia stato divertente nelle prossime giornate sto preparando da parte alcuni video li sto preparando con largo anticipo perché sono molto complicati come avete visto per cui ci sta che mi vedete fare un Astrocafè che ho già registrato altri che li sto preparando quindi se mi vedete se vedete Astrocafè mi stia perché come avete visto necessita di una marea di preparazioni e solo per preparare il razzo è servito un bel po' però spero che sia una settimana divertente e che questo mese possa unirci ancora tutti quanti intorno al ricordo di quanto è stato incredibile e meraviglioso tutto questo e che abbiamo non solo la possibilità ma anche il dovere di continuare a fare cose meravigliose così che le prossime generazioni guardino continuano a guardare grazie anche a noi verso l'alto con occhi pieni di meraviglia e non solo verso l'alto ma anche l'uno verso l'altro anche perché se c'è una cosa che rimane delle missioni Apollo è che la terra si vedeva proprio piccolina piccolina in fondo gli astronauti anche Neil Armstrong e Buzz Aldrin quando tornano dicono che la terra si vedeva grande appena quanto un pollice e che se facevano così la terra spariva non si vedono confini non si vedono le cose per cui le persone lottano per cui muoiono non si vedono tutte le differenze le divisioni che inventiamo qui si vedono si vedono soltanto le nuvole l'acqua un piccolo pianeta sospeso nel vuoto se non ci aiutiamo noi se non ci vogliamo bene noi chi lo fa? abbiamo bisogno di credere che sia possibile lavorare insieme e vivere su questo piccolo pianeta insieme e credo che se c'è una eredità che merita di essere ricordata ancora di più dopo 50 anni è proprio questo senso di appartenenza tutti insieme allo stesso pianeta di essere alla fine esseri umani di uno stesso mondo abbiamo non solo la possibilità ma anche il dovere di aiutarci specialmente quelli che hanno più bisogno e più difficoltà con questo vi saluto un abbraccio ancora stritolatevi da parte mia se no quando vi becco vi stritolo io continuate ad essere meravigliosi e noi ci vediamo presto per un altro astrocaffè una bella tazza di caffè due o tre tazze di caffè se dura questo tipo di video ora finisco davvero ora smetto di parlare promesso forse eccoci arrivati nelle handcard e sapete cosa è successo agli astronauti che hanno portati a casa le hanno chiusi in quarantena perché avevano paura di microbi portati dalla luna quindi le hanno messi lì buoni buoni in una quarantena per circa due settimane sono rimasti isolati non potevano vedere nessuno e era molto molto seria la questione perché avevano davvero il timore che poteva esserci qualche contagio nessuno sapeva se in passato ci fosse stato qualche magari presenza di microbi lunari o chissà quindi meglio non rischiare ora dopo abbiamo scoperto che all'interno del posto dove stavano isolati c'era un buco da una parte quindi ecco usciva aria per cui saremmo se fosse successo saremmo morti tutti però eh nessun problema non è successo niente niente microbi terrestri ma sulla luna è rimasto un po' di cacca per cui gli astronauti fanno la cacca anche loro ed è ancora lì mi sembrava un modo giusto per finire questa handcard tra un po' della cacca degli astronauti perché non sembra mai uno degli esperimenti più affascinanti perché sono c'è la cacca piena di microbi ancora lì sulla superficie lunare ormai da 50 anni se un giorno torniamo a riprenderla potremmo vedere quali tipi di microbi sono sopravvissuti come cos'è successo alla materia organica dopo mezzo secolo di esposizione allo spazio e questo tipo di esperimenti non è mai stato fatto ovviamente ma potrebbe essere una buona occasione per futuri per future missioni astrobiologico sulla luna anche se immagino che il sito dell'allunaggio sarà trasformato o almeno spero in un museo per cui pensate che tra un secolo magari ci saranno gite di ragazzi delle scuole che partiranno per fare una settimana bianca sulla luna in cui li porteranno a visitare i posti dove sono allunati nel 1969 i primi esseri umani parlando di cose belle giusto in chiusura ma lo sapete perché sono riuscito a fare un video in piena estate sciogliendomi tra l'altro di più di un'ora con un modulo gigantesco con tutto zatto un 5 è tutto perché sono riuscito a farlo grazie a voi grazie a Patreon grazie davvero a tutti quelli che hanno donato che mi obbligano a lavorare tipo schiavi vai video frusta sto scherzando e poi dopo ci sono anche frustate che sono piacevoli suppongo nel paragone la strana metafora che sto portando avanti è l'equivalente di qualcosa per cui merita a fare la fatica perché mi diverto così tanto a parlarvi di queste cose e mi piace così tanto far parte della community di cui che abbiamo creato insieme che ecco sono felicissimo di avere l'opportunità grazie a Patreon di poterlo fare anche durante l'estate e di continuare spero anche durante agosto anche se durante agosto ci saranno un po' meno video perché fa troppo caldo più che altro se siete tutti via quindi io sarò in Giappone vabbè lunga storia ci vediamo presto un abbraccio continuate a essere meravigliosi ciao grazie a tutti